Elezioni regionali ormai passate, anche in comune, cambieranno diversi scenari. Il risultato elettorale sicuramente premia e rafforza il sindaco Pierluigi Biondi, che come coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia ha incassato in città. Un risultato molto importante ed anche schierare il vice sindaco Guido Liris con il partito dopo la rottura con Forza Italia gli ha dato ragione, tant'è che Liris ha fatto il pieno di preferenze. Ma veniamo ai numeri. Il Consiglio perde quattro uomini, Emanuele Imprudente, Roberto Sant'Angelo, Guido Liris e Americo di Benedetto, oltre a Luigi Deramo che secondo i rumors sarebbe in procinto di dimettersi per dedicarsi completamente a Roma al suo ruolo da parlamentare della Lega. Con l'ingresso in regione dei due consiglieri comunali di Benedetto e Sant'Angelo si vanno a scorrere le liste. Entrano in comune Emanuele Cucchiella che era candidato con Aquila Futura, mentre al posto di Americo di Benedetto entrerà Sergio Ianni che si candidò con Abruzzo Civico, ex consigliere del Partito Democratico. Si liberano due posti da assessore e forse tre con Deramo, con l'elezione di Imprudente e Liris nell'assise regionale, ma c'è anche l'assessorato al bilancio da coprire dopo l'espulsione di Annalisa Di Stefano. Tra i papabili assessori si parla già di Daniele Ferella, ex consigliere comunale, capogruppo della Lega, e lui potrebbe andare al posto di Deramo all'urbanistica. Così entrerebbe in consiglio comunale Tiziana del Beato, che era candidata alle regionali nel ticket con Imprudente, ma che non ce l'ha fatta. C'è anche poi il ruolo da vicesindaco da rimpiazzare. Per ora queste sono solo voci, indiscrezioni, rumors, ma di certo il sindaco Biondi vuole accelerare per non creare impasse amministrativa, trattandosi comunque di assessorati molto importanti quelli da attribuire.